Un poliziotto di Los Angeles, Danny Kluver, insieme a dei suoi colleghi, indaga su alcuni efferati omicidi commessi da qualcuno di misterioso. Nella metropoli, però, tra spacciatori, assassini e vari criminali, si nasconde anche il Predator, entità aliena all'apparenza invisibile e responsabile degli omicidi. Ma a complicare le indagini dei detective, oltre che ai loro superiori, ci si mette anche un'organizzazione governativa. In un'ora e cinquanta il pubblico assiste ad una caccia senza esclusione di colpi.